Ciao a tutti, ben ritrovati, io sono Alessia e oggi andremo a fare un allenamento focalizzato sulla parte inferiore, quindi gambe glutei, e sull'addome. L'allenamento si dividerà in un primo circuito di riscaldamento e poi in due blocchi, un blocco più proiettato sulle gambe e un blocco più sull'addome. Quello che utilizzeremo oggi saranno due strofinacci che li andremo a usare a mo' di pattine, quindi in più ad allenarci andremo anche a pulire casa, quindi faremo due cose utili, una per noi e l'altra per la pulizia della casa. Partiamo subito. Partiamo con il riscaldamento, due round da 45 secondi di lavoro e 15 di recupero. Primo esercizio affondi posteriori, qui portiamo dietro la gamba e andiamo a fare l'affondo. Secondo esercizio plank sulle mani, quindi teniamo 45 secondi di plank. Terzo esercizio invece passiamo ad uno squat jump, naturalmente la versione più facile è uno squat normale senza il salto. Quarto esercizio mountain climber, anche qui possiamo avere la modalità più facile una gamba alla volta oppure la modalità diciamo corsa più veloce. Primo blocco, trail round. Primo esercizio squat laterale, quindi posizioniamo le pattine sotto ai piedi, andiamo a spingere la gamba lateralmente e scendiamo in affondo. Otto ripetizioni per lato. Secondo esercizio, ci posizioniamo in affondo, il ginocchio dietro è appoggiato, la gamba avanti invece va a fare un'abduzione, attiviamo bene l'addome e spingiamo il ginocchio lateralmente. Naturalmente otto ripetizioni per lato. Terzo esercizio, leg curl, sempre le pattine sotto ai piedi, spingiamo i piedi distendendo le gambe e attivando i muscoli richiamiamo i piedi verso i glutei. Quarto esercizio invece, ritorniamo in ponte glutei, distendiamo una gamba e la riportiamo verso i glutei facendo una mezza circonferenza, un mezzo cerchio. Otto ripetizioni per gamba, anche qui. Passiamo adesso invece al blocco due, sempre tre round, adesso lavoriamo di più sull'addome. Ci posizioniamo in plank con gli strofinacci pattine sotto ai piedi e rifacciamo un mountain climber, però adesso devo far scivolare i piedi sul pavimento. Anche qui la modalità più lenta e la modalità più veloce. Secondo esercizio, sempre in plank, però facciamo un'abduzione-adduzione delle gambe, attivando bene l'addome, 30 secondi. Terzo esercizio, leg extension, quindi le pattine sempre sotto ai piedi, distendo le gambe, attivo l'addome, circonduzione indietro delle braccia. Ultimo esercizio invece, ci posizioniamo nella posizione del side plank, il ginocchio sotto piegato, appoggiato e con la gamba invece sopra distesa andiamo a fare diciamo un calcio in avanti, quindi la gamba distesa, la portiamo davanti e la riportiamo in linea con il corpo. Molto bene, questo è l'allenamento, mi raccomando provatelo, allenatevi e ricordatevi di postare poi i vostri video taggando S-Club Impoli e mettendoci l'hashtag S-Club a casa sua. Ciao!